Massimo Volta lavora in gruppo. Il difensore prelevato in prestito dal Benevento nel mercato invernale ha dovuto attendere di smaltire l'operazione di fine ottobre al tendine di Achille prima di raggiungere Pescara. Quasi cinque mesi di assenza. Ora il giocatore è a disposizione di Grassadonia anche se è difficile pensarlo già in campo nelle prossime due partite con il Pisa venerdì all'Adriatico Cornacchia e a Monza nel lunedì di Pasquetta. Una giunta quando ormai la stagione appare compromessa. Quando il campionato riprenderà ci sarà il Tour de Force finale. Otto partite in poco più di un mese con le due giornate a cavallo della festività pasquale e un turno infrasettimanale, quello del 20 aprile. Ultima giornata prevista per il 7 maggio. Per dare un senso a questo finale di stagione i biancazzurri dovrebbero invertire sensibilmente la loro marcia ma il problema è appunto il Pescara. Nel senso che se ancora la classifica sembra recuperabile perché sono sei punti da rimontare da quarto ultimo e quinto ultimo posto, perché ci sono ancora gli sconti diretti da giocare con le squadre che occupano quelle posizioni, Cosenza e Reggiana, d'altro canto proprio il Pescara ha dimostrato di non avere la forza per fare la rimonta. I numeri impietosi dicono che i biancazzurri hanno vinto cinque gare sulle 30 disputate. Ora ne dovrebbero vincere almeno altre tante ma in sole otto partite. I numeri dicono poi che in casa il Pescara non vince dal 3-2 col Monza dello scorso 19 dicembre, un girone fa in pratica, che sempre in casa il Delfino è la squadra peggiore del campionato, 10 punti fatti contro i 12 di Entella e Cosenza, che quella del Delfino è la peggiore difesa insieme a quelle di Entella e Reggiana, 47 le reti subite, che l'attacco è il peggiore in assoluto con le sole 22 reti segnate. La partita contro il Pisa dirà se il verdetto della retrocessione matematica si avvicinerà o se sarà lecito coltivare qualche residuo a speranza alla vigilia della doppia trasferta a Lombarda. Dopo il lunedì dell'Angelo al Brianteo contro il Monza affamato di punti perché in lotta per il secondo posto, il Pescara sarà di scena a Brescia sabato 10 all'ore 14 contro l'undici di Clotet, che si è allontanato dalle zone pericolose e prova a rimettersi in corsa per un piazzamento playoff. Cosa che vuole fare anche un Frosinone in caduta libera è che per invertire la rotta si è affidato al pescarese Fabio Grosso, chiamato al posto di Sandro Nesta. Sono contentissimo di avere questa opportunità, ringrazio il presidente e il direttore. Per me il Frosinone è una piazza importante, una società seria, ha tantissime caratteristiche che ho sempre desiderato di trovare nelle società in cui sono andato ad allenare. e ripeto, sono contento di essere qui e mi auguro di fare un bel lavoro insieme a tutto il resto della squadra. Non ho voglia di rivalze, io ho voglia di lavorare, ho tanta passione in quello che faccio e conosco i miei difetti ma conosco anche i miei pregi e quindi credo di poter insieme a questo gruppo fare un finale di stagione positivo ritrovando delle caratteristiche che sono determinanti per riuscire ad ottenere i risultati. Grazie. 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 Grazie.